In questa puntata di Simpson, Lisa spiega a Bart che a causa della forza di Corioli, nell'emisfero sud lo sciacquone gira in senso orario, mentre nell'emisfero nord in senso anti-orario. Bart non vuole credere alla sorella e per una volta è lui ad avere ragione. Ma quando i Simpson si trovano nell'emisfero sud e Bart chiede in che senso gira lo sciacquone, gli viene detto che gira in senso anti-orario solamente perché è stato installato un dispositivo per far sentire gli americani a casa. La forza di Corioli esiste, ma i suoi effetti sono visibili solo su lunghe distanze o lunghi periodi. Per questo sono visibili soprattutto in campo meteorologico. Per dimostrare tutto ciò ho riempito un lavandino d'acqua, ho tolto il tappo e ho osservato la rotazione di una pallina da ping pong. Ho svolto questo esperimento in Italia eppure la pallina ha girato in senso orario. Questo perché la forza di Corioli è molto debole e la pallina è stata influenzata dal di altre forze. Se la forza di Corioli fosse abbastanza potente da influenzare lo scarico dei nostri lavandini sarebbe in grado di cambiare il movimento iniziale di un liquido, cosa fisicamente impossibile.